Il primo passaggio che dobbiamo fare per risolvere un'equazione fratta è quello di esprimere sia primo che secondo membro come un'unica frazione. Queste frazioni avranno come denominatore il minimo comune multiplo dei denominatori, conosciuto anche come minimo comune denominatore. Per trovarlo dobbiamo scomporre i denominatori delle frazioni in questione. A primo membro il binomio x alla seconda meno 1 è una differenza di due quadrati e può essere scritto come somma per differenza di x e 1. Ora dobbiamo fare un passaggio molto importante. L'equazione è formata da frazioni algebriche e sappiamo che una frazione algebrica è definita quando il suo denominatore è diverso da 0. Allora dobbiamo imporre le condizioni di esistenza e richiedere che ogni fattore che compone uno dei denominatori sia diverso da 0. Prendiamo i fattori una sola volta. Otteniamo x diversa da meno 1 e x diversa da 1. Le eventuali soluzioni dell'equazione, per essere accettate, devono soddisfare queste condizioni. Adesso possiamo calcolare il minimo comune denominatore. Dobbiamo prendere i fattori comuni e non comuni col massimo esponente. In questo caso prendiamo x più 1 e x meno 1. Scriviamo a primo e secondo membro una frazione con denominatore x più 1 per x meno 1. Per determinare cosa scrivere a numeratore, dobbiamo dividere il minimo comune denominatore per il denominatore di ogni frazione e moltiplicare il risultato per il numeratore. Riguardo alla frazione a primo membro, il risultato della divisione è 1, perché minimo comune denominatore e denominatore sono uguali. 1 per 2x più 4 è uguale a 2x più 4. A secondo membro abbiamo x per x meno 1, perché il risultato della divisione tra x più 1 per x meno 1 e x più 1 è x meno 1. Poi abbiamo più 2 per x più 1, perché quando dividiamo il minimo comune denominatore per x meno 1 otteniamo x più 1. Il prossimo passaggio è quello di moltiplicare entrambi i membri per il minimo comune denominatore, in modo da eliminare i denominatori e ottenere un'equazione intera. È un'operazione che possiamo fare soltanto se i fattori che compongono il minimo comune denominatore sono tutti diversi da 0, in modo da rispettare uno dei principi di equivalenza delle equazioni. Se un fattore fosse uguale a 0, l'operazione non sarebbe possibile. Allora moltiplichiamo entrambi i membri per x più 1 per x meno 1, e poi semplifichiamo. Quest'operazione è possibile perché abbiamo già imposto le condizioni di esistenza, quindi siamo sicuri che ciò per cui stiamo moltiplicando è diverso da 0. Ciò che rimane è un'equazione intera. Moltiplichiamo x per x meno 1. Il risultato è x alla seconda meno x. Poi moltiplichiamo 2 per x più 1. Il risultato è 2x più 2. Possiamo eliminare i termini 2x perché sono uguali e in membri diversi. Abbiamo usato la regola di cancellazione, che si basa sui principi di equivalenza delle equazioni. Trasportiamo tutti i termini a primo membro. Ricordiamoci di cambiare il segno. Svolgiamo l'operazione 4 meno 2, con risultato 2, e, infine, moltiplichiamo entrambi i membri per meno 1, in modo da cambiare i segni e rendere il coefficiente del termine di secondo grado positivo. Abbiamo portato l'equazione in forma normale e ora dobbiamo risolverla. Potremmo applicare la formula risolutiva, ma sarebbe uno spreco di tempo. Infatti, esiste un metodo più veloce e consiste nello scomporre il trinomio di secondo grado con la tecnica del trinomio notevole, e poi applicare la legge di annullamento del prodotto. Se possibile, è sempre meglio scomporre che applicare la formula risolutiva a testa bassa. Chiediamoci, quali sono due numeri il cui prodotto è meno 2, valore del termine noto, e la cui somma è meno 1, coefficiente del termine di primo grado? Sono meno 2 e 1, e allora possiamo scomporre il trinomio nel prodotto dei fattori x meno 2 e x più 1. La legge di annullamento del prodotto ci dice che un prodotto è uguale a 0 se almeno uno dei suoi fattori è uguale a 0. Seguendo questo ragionamento ricaviamo due semplici equazioni di primo grado, che possono essere risolte facilmente trasportando i termini costanti a secondo membro. 2 e meno 1 sono le soluzioni dell'equazione di secondo grado intera. Sono anche le soluzioni dell'equazione fratta? Lo sono se soddisfano le condizioni di esistenza. 2 è un numero diverso sia da 1 che da meno 1, e allora lo possiamo accettare. Meno 1 è uno dei valori che abbiamo escluso, e allora dobbiamo scartarlo. L'unica soluzione di questa equazione fratta è x uguale 2. Il metodo per risolvere un'equazione fratta è sempre lo stesso, ma ogni equazione ha le sue particolarità, come in questo secondo esempio. Quel radicale annumeratore della prima frazione ci darà del filo da torcere. Calcoliamo il minimo comune denominatore. Dobbiamo scomporre il denominatore della frazione a secondo membro, un trinomio di secondo grado. Possiamo utilizzare nuovamente la tecnica del trinomio notevole. Quali sono due numeri il cui prodotto è meno 6 e la cui somma è meno 1? Sono 2 e meno 3, e allora il trinomio x alla seconda meno x meno 6 può essere scritto come il prodotto di x più 2 e x meno 3. Ora dobbiamo porre le condizioni di esistenza. I fattori che compongono i denominatori delle frazioni algebriche devono essere posti diversi da 0, perché le frazioni siano ben definite. Allora x deve essere diversa sia da meno 2 che da 3. Il minimo comune denominatore, dato dai fattori comuni e non comuni presi una sola volta col massimo esponente, è dato dal prodotto di x più 2 e x meno 3. Seguiamo lo stesso procedimento dell'esercizio precedente e dividiamo il minimo comune denominatore per il denominatore di ogni frazione e moltiplichiamo il risultato per il numeratore. Queste operazioni ci danno i fattori per i quali dobbiamo moltiplicare i numeratori delle frazioni. Ad esempio, moltiplicheremo il radice di 2x per x meno 3, perché x più 2 per x meno 3 diviso x più 2 è uguale a x meno 3. Applichiamo lo stesso procedimento per ricavare i restanti termini. Ora possiamo liberarci delle frazioni, ma anziché farlo come prima, scrivendo per esteso i calcoli, eliminiamo direttamente i denominatori. Chiaramente il significato che sta dietro questa operazione è lo stesso di prima. Stiamo moltiplicando primo e secondo membro per x più 2 per x meno 3, operazione in accordo con il secondo principio di equivalenza delle equazioni, poiché quel prodotto è sicuramente diverso da zero, date le condizioni che abbiamo posto. Adesso l'equazione è intera e dobbiamo svolgere i calcoli per portarla in forma normale. Iniziamo facendo le moltiplicazioni per togliere le parentesi. Radice di 2x per x meno 3 è uguale a radice di 2x alla seconda meno 3 radice di 2x, mentre x più 3 per x più 2 è uguale a x alla seconda più 2x più 3x più 6. Possiamo eliminare i termini x alla seconda e 3x, sfruttando la regola di cancellazione che abbiamo già utilizzato nel primo esercizio. Trasportiamo il 12 a primo membro. Per concludere le operazioni possiamo fare due cose. Raccogliere la x a fattore comune tra i due termini che la contengono e calcolare 6 meno 12. Questa è la forma normale di questa equazione di secondo grado e contiene due radicali. Attenzione al coefficiente della x, la b, che è formato da due termini. Applichiamo la formula risolutiva e calcoliamo il delta, b alla seconda meno 4ac. Dobbiamo calcolare il quadrato di un binomio con un termine con radice, non di certo la cosa più piacevole da fare. La formula la conosciamo. Quadrato del primo termine, doppio prodotto dei due termini è quadrato del secondo termine. Il quadrato di meno 3 radice di 2 è 18. Ricordiamo che il quadrato elimina la radice. Il doppio prodotto è uguale a meno 12 radice di 2. Poi abbiamo 4, il quadrato di 2. Infine, più 24 radice di 2. La tentazione è quella di fare le operazioni, ma l'unica che ci conviene fare è quella fra i radicali simili. Sommare 18 e 4, sebbene sia matematicamente corretto, ci renderebbe la vita difficile. Infatti, non ci permetterebbe di riconoscere in questi tre termini il quadrato di un binomio. Sono gli stessi tre termini che abbiamo ottenuto poco fa, con l'unica differenza che 12 radice di 2 assegno più. Come quei tre termini erano lo sviluppo di un quadrato, anche questi lo sono. Sono lo sviluppo del quadrato di tre radice di 2 più 2. Questo è il delta di questa equazione. Applichiamo la formula risolutiva per calcolare le soluzioni e sostituiamo i valori. La radice quadrata di un'espressione al quadrato è uguale al valore assoluto di quella espressione, valore assoluto che possiamo togliere perché tre radice di 2 più 2 è un valore positivo. Prendiamo questa espressione prima col segno più e poi col segno meno e teniamo le parentesi. Concentriamoci sulla prima espressione. Togliamo le parentesi e manteniamo i segni invariati per via del segno più. Possiamo eliminare i due, opposti tra loro. Sommiamo tra di loro i radicali. Ora semplifichiamo 2 e 6 e le radici di 2. La prima soluzione di questa equazione è 3. La possiamo accettare? No, perché 3 è uno dei valori che abbiamo escluso. La dobbiamo scartare. Calcoliamo la seconda soluzione. Togliamo le parentesi e cambiamo i segni, per via del meno. Eliminiamo i termini 3 radice di 2, opposti tra loro, e facciamo i calcoli. Semplifichiamo 2 e 4. Adesso dobbiamo razionalizzare il denominatore e per farlo moltiplichiamo per radice di 2 su radice di 2. È come se stessimo moltiplicando per 1, senza cambiare il risultato. Svolgiamo le operazioni e poi semplifichiamo i due. Il risultato è meno radice di 2. Questa soluzione può essere accettata, perché rispetta le condizioni di esistenza ed è, quindi, l'unica soluzione di questa equazione fratta. Per risolvere le equazioni fratte è necessario sapere come risolvere quelle intere e in questo video spiego come si risolve un'equazione di secondo grado intera e come scegliere la formula più adatta. Buon proseguimento e buono studio!